La passione vivente di Motto La passione è organizzata in un antichissimo luogo di culto nella Grevina, la Chiesa Maria Santissima del Carmelo. Una passione vivente in versione musical, unica in Italia, che ripercorre a tappe il Vangelo. Per la ventesima edizione, quella appunto del 2010, è stato scelto l'episodio della Samaritana. L'evento, che avrà inizio sabato 27 marzo, è stato presentato presso il centro di accoglienza della Croce. Ogni anno è diversa, ci sono dei miglioramenti tutti gli anni, miglioramenti che hanno un significato preciso, che è quello di rafforzare il messaggio, che poi in fondo è un messaggio religioso, culturale e in parte turistico.